Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo Signori, riusciremo prima o poi a vincere qualcosa, forse, non si sa, chi lo sa, vedremo come andare avanti la serie Signori, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, trovate il link in descrizione in cui portiamo altre serie e altri giochi Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e ai due canali Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook Dove vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola Perché mi trovate anche su Twitch E poi, e poi, e poi, e poi, niente, ho dato un'occhiata ai link in descrizione in cui trovate i link per abbonarvi, per donare Per andare sugli altri miei canali e anche i link degli abbonati al mio canale Che, se volete fare un salto nei loro canali per vedere i loro contenuti, a me può fare solo che piacere Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Ok, signori, andiamo a giocare contro il Bristol Allora, 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 io sto con l'Other Rail Il Ragionier lo leviamo, facciamo giocare Aladino Che la faccio un poco così triste Poi lo zio Sullivan per forza Wilding, va bene Facciamo fare un turno di riposo a Kanon E facciamo giocare il Piccolo Luna Dove sta il Piccolo Luna? Perché non trovo il Piccolo? Eccolo qua, è Piccolo Luna Dai, dai, che deve crescere, deve crescere il Piccolo Luna, signori Non capisco perché mi continuo a dire che è col bollino Che vuol dire, signori, il punto esclamativo? Qualcuno me lo sa dire, eh? Dico, sta diventando un Cicci Vabbè, non lo so, Giardino va bene Confermato con Kantè pronto a entrare nel secondo tempo Mel Gibson che si è rasato la testa a zero Non era rasato a zero prima Mel Gibson Signori, aveva i capelli rosa prima Rossi nel senso, Mel Gibson Mi hanno cambiato le facce Mel Gibson Ma nooo Ma aveva i capelli rossi prima Perché adesso è pelato? Davies, lo facciamo uscire per Lavelle Va bene, il nostro Lavello Io lo chiamiamo Lavandino, sì Ma sbagliavo, è Lavello, non è Lavandino È Lavello Clark lo teniamo titolare E qua, Mellor Io direi di dare una possibilità a base là Dai In porta lasciamo lo Re Che mi sta bene E in panchina ci portiamo Mellor Stevens No, Stevens no, signori Stevens, mi serve un difensore centrale da portarmi Non posso portarmi due esterni Ci portiamo Greaves Greaves Così eventualmente lo facciamo entrare Magri, vediamo di farle entrare Kaynon Va bene Kantè Va bene E invece di Scott, signori Ci portiamo Miura Il nonno Miura Dai, dobbiamo rinnovare Vediamo se riusciamo a rinnovare il contratto a Miura Di un altro anno, signori Vediamo se di anno in anno Riusciamo a portarcelo fino A fine serie Praticamente Do sta il nonno Miura Do sta il nonno Miura Intanto, vabbè I contratti ce li hanno messi tutti bene Ok Io però no Aspettata qua Non lo capisco Se è uno stato Ok Andiamo a beccare il nonno Miura Vediamo se riusciamo a rinnovare Il contratto di un altro anno Trattative e rinnovo Andiamo a fare trattative Vediamo, vediamo, vediamo Vediamo se il nonno Miura Rimane ancora Vediamo se riusciamo ad allungare Il contratto di un altro anno Dai, dai Ti do quello che vuoi nonno Contratto 1.500 Lui è un importante Ok Vuole essere importante Se ti propongo un turnover Ti può andare bene No, vuole essere importante Lui nonostante sia solo la mascotte Lui vuole essere una mascotte importante Va bene nonno Allora Contratto Ruolo Magari Due anni Due anni mi dirà sicuramente no Vediamo se riusciamo a tirare per un anno Nessuna prologa Non se ne parla proprio Contro offerta Siamo qua per rinnovarlo di un anno Nonno Nonno Miura Miura è contento Signore abbiamo allungato il contratto di nonno Miura Di un altro anno Spettacolo Ti do quello che vuoi Dimmi, dimmi Nessuna classe Ma chi ti deve pigliare Nonno Avrai 50.000 anni Allora Prendi 1.500 Allora io te ne do Ancora 1.500 1.500 E 20.000 Dai Ti vai a fare il giro Allo spizio Dai 1.500 e 20.000 Mi sembra un'offerta grande Nonno Miura Ci rivediamo qui l'anno prossimo Ci rivediamo qui l'anno prossimo Per prolungare ancora questo contratto A 60 anni lo faremo scendere ancora in campo E festeggiamo il rinnovo del contratto Portandocelo in campo signori Ce l'abbiamo in panchina nonno Miura Ce l'abbiamo in panchina nonno Miura Perfetto Lo dobbiamo far scendere in campo Anche se stiamo a perdere 10.000 A 0 Deve scendere in campo nonno Miura Per forza Deve festeggiare il rinnovo del contratto Contro il Bristol Rover Non ho visto bene in che posizione sono in classifica Ma non è un nostro problema signori Noi dobbiamo semplicemente pensare a vincere Ok signori ci siamo Bristol Rovers contro Morecambe Dobbiamo portarci a casa un'altra bella vittoria signori miei Attenzione Mamma mia come è partita bomba questo Ma chi è? Allora dai 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 Occhio a quello lì Non so chi è Little Deli 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 è partita bomba signori Oh l'abbiamo ridimensionato subito Calma signori Calma 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 No Via 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 Vai Clark Kent Bravo Clark Kent Se però riuscivamo a fare un 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 disimpegno buono Occhio portiero Va bene Rovesciati rovesciati Mannaggia calcio d'angolo per loro No Si è fatto male il mio portiere? No E lì è tranquillo Ok fuori 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 Mamma che brutta palla Le gambe ti devono tagliate Ti devono tagliate le gambe Signori riusciamo a uscire? Ma perché devono sempre partire a bomba le altre squadre E noi stiamo sempre a guardare Ma perché? Ma perché? Ma perché? Porca di una paletta Ambriaca Con calma Con calma ripartiamo Dai piccolo luna Piccolo luna Dai piccolo luna Dai piccolo luna Dai piccolo luna Dai piccolo luna Corri 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 Giardino, non sei partito nel momento migliore, non sei partito quando dovevi partire, Giardino, bravo, piccolo Luna, Macchi, piccolo Luna, mamma mia che intervento di Vaselà, che si è fatto il ciuffo nuovo, si è fatto il nuovo taglio di capelli e non ci ha capito più nulla. Guarda, cartellino giallo subito per Vaselà, così, va bene, va bene, vi facciamo capire chi è che comanda su quella fascia, signori, attenzione al calcio d'angolo, palla in mezzo, riusciamo a buttarla fuori, Stockholm, buono, lo stacco di testa di Stockholm, Wilding, da quando non si è più stoppare un pallone, Wilding mio, attenzione, attenzione, occhio a Vaselà, 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 no, no, grande Clark Kent, grandissimo Clark Kent, dai piccolo Luna, dai piccolo Luna, guarda Giardino, Giardino, mamma mia, mi ha fatto volare quello lì, signori, ringraziate che ha preso la palla, attenzione, 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 tienilo, 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 non dargli lo spazio, non dargli lo spazio, mamma mia, meno male che era fuori gioco, signori, ripartiamo, ripartiamo, no, signori, abbiamo perso una palla sul rinvio, ho perso una palla, va bene, subito il recupero, dai parti, perché non parte, ma perché su quella fascia non parte nessuno, dai piccolo Luna, dai Giardino, dai Giardino, dai Giardino, perché, perché sono, sono, signori, perché ero in panchina con la maglia 99 del Morecambe, va bene che sono pronto a scendere in campo, ma così mi sembra un po' esagerato, ma parca, niente, ero, ero, ero in campo, pronto a scendere, ero a bordo campo, pronto a scendere in campo, signori, va bene, Attenzione, attenzione, ancora, mamma mia, gli regaliamo il calcio d'angolo, va bene, bastava intervenire un poco meglio, mannaggia di una paletta ambriaca, va bene, dai, 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 occhio al calcio d'angolo, occhio al calcio d'angolo, occhio al calcio d'angolo, fuori, 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 fuori questa palla, fuori, fuori questa palla, ho detto fuori, bravissimo l'orei, bravissimo l'orei, giocala lì, dai, dai, Mer Gibson, si è fatto i capelli nuovi, Mer Gibson, Mer Gibson, Mer Gibson, bravo, Giardino, 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 che è completamente circondato, Giardino, ok per Stockholm Stockholm, 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 guarda il movimento Bravo, Giardino, vattene, vattene Giardino Vattene Giardino, mamma mia Dai così, Clark Kent Si stacca dalla difesa e parte, Clark Kent Sul cerchio di centrocampo, Clark Kent Clark Kent, Clark Kent, Clark Kent, guarda Giardino Bravissimo, buona l'apertura Per Giardino, buona l'apertura per Giardino Che si ferma al tempo giusto, vede il movimento di Stockholm Stockholm, 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 Stockholm Si crea lo spazio, Stockholm Ok, attenzione a Zio Salli È partito Zio Salli, signore, fallo È fallo Ah, ok, è la partita Zio Salli, signori Attenzione perché ora stiamo su quella fascia con Zio Salli Che non scherza, non scherza Zio Salli Signori, con Zio Salli non si scherza Guardate subito il movimento al centro, bellissimo Zio Più veloce però nei movimenti, più veloce Ricordiamoci che a settantesimo dobbiamo fare entrare il nonno Miura Che festeggia il Il rinnovo ancora di un anno Del contratto, ricordiamoci Ricordiamoci a settantesimo di fare entrare il nonno Miura Qualsiasi sia il risultato, bravo Bravo Vasella che però non riesce Dai così, mamma mia No, 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 esci portiero Salva, bello così evitiamo pure il calcio d'angolo Mamma mia, gli ha dato una petata in faccia però, dai Giochiamo sportivi, signori Dai Perché questa violenza così gratuita subito Attenzione, attenzione Bravo Salli, 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 Salli Che Dai Vasella, ma se stavi a partire Ma porca di una paletta ambriaca Wilding, attenzione, Wilding, Wilding, Wilding Zio Salli Sei in fuorigioco Davo così, Zio Salli Vai Zio Salli, vai Zio Salli, vai Zio Salli Vai Zio Salli, vai Zio Salli Vai Zio Salli, entra in aria Entra in aria, Zio Salli Non ti preoccupare di loro Ma guarda E passa Mamma mia Quando prende la palla Zio Salli, signori Che sta a fa' Stoccon? Ma che sta a fa' Stoccon? Mamma mia Quando Zio Salli su quella fascia È imprendibile, signori Mamma mia Tanti e tanti anni ancora per lui Dai così Dai così 1-0 per noi Stoccon su assist di Zio Salli Allora, cerchiamo di tenerla Cerchiamo di tenerla, signori Che non è per nulla scontato Wilding, bravo il movimento Zio Salli, allargati Grandissimo Ancora lo Zio Salli Lo Zio Salli la vuole chiudere Lo Zio Salli la vuole chiudere Lo Zio Salli si ferma All'imitare l'aria Lo Zio Salli Nooo Ma porca paletta ambriaca Bravo Clark Kent che si fa trovare al posto giusto Al posto giusto nel momento giusto Zio Salli Zio Salli Zio Salli Zio Salli Zio Salli Angolo Bella l'azione Bella l'azione Bella l'azione Siamo al 68esimo, signori Facciamo entrare Miura Facciamo entrare Miura, dai Facciamo entrare Miura Prima del calcio d'angolo Così di testa la spizza lui E ci porta in vantaggio Allora io direi Di fare uscire Stoccon La torre del gol Facciamo entrare lui Lui in piede a destra Lo mettiamo a sinistra E Arladino in piede a sinistra Lo teniamo a destra Va bene così Dai Nononi Miura Che deve festeggiare il rinnovo del contratto Di un altro anno Dai Nononi Miura Subito Si va a prendere il pallone Nononi Miura Nononi Miura Si gira Si gira su se stessa Il tiro Grande Nonno Grande Nonno Il Nonno rinnova Grande così Calma signori Il piccolo Luna Il piccolo Luna Il piccolo Luna Per Aladino 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 Lo zio Lo zio Lo zio Lo zio La fa scorrere Grande lo zio Si crea lo spazio Lo zio Attenzione Palla lì Palla lì Non arriva Va bene Calcio d'angolo Calcio d'angolo Non ho visto il Nonno Miura Signori Kanon per piccolo Luna Va bene Dai Copriamoci al centrocampo Perché perdendo Un attaccante di riferimento Meglio avere un centrocampo Più sicuro Ancora Giardino La passa al Nonno La passa al Nonno Che si gira tranquillo Nessuno lo ferma Il Nonno Che sinistro Che c'è il Nonno Stava passando fra due giocatori Buona prova del Nonno Buona prova Attenzione Attenzione però Non facciamo cretinate Signori Non facciamo cretinate Sul finale Bravo così Zio Salli Zio Salli Ha il pallone lui Zio Salli Dai fatti vedere Fatti vedere Fatti vedere Zio Salli Prende la palla Una spina nel fianco E Zio Salli Su quella fascia Signori Attenzione Attenzione Il Fallaccio Buttalo fuori Vase là per Mellor Sì Ok Facciamo uscire Mellor Facciamo uscire Vase là Eeeh Zio Salli Alla punizione Per Mellor Appena entrato Mellor Mellor si gira su se stesso Fa una cacata terribile E infatti Mellor si è entrato Ottimamente in partita Complimenti Era meglio Vase là Praticamente Va bene No 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 Non ci credo Meno male Meno male Il nostro partito ci salva Attenzione Al calcio d'angolo Attenzione Al calcio d'angolo Signori Mancano due minuti Mancano due minuti Sì Non voglio prendere il gol ora Fuori Fuori Bello così Vai nonno Vai nonno Vai nonno Vai nonno Miura Che a fine partita Ti regalo le stampe alle nuove Dai nonno Tanto non Non si scherza Non si scherza No no Signori Signori Grandissimo Chi è Bravissimo Così ripartiamo Con calma Bravi Come giochiamo bene Tre minuti di recupero Se ne sono già andati due Albitro fischia Albitro fischia Subito Albitro fischia Subito Prima che distacco le gambe A questo Albitro fischia Signori Quattro minuti di recupero Dico Potremmo anche fischiarla Fin la partita Tre punti Che ci portiamo a casa Partita importante Partita importante Tre punti fuori Ecco guardate Sono pronto a scendere in campo Mi sono trasformato pure io In un nonno Sono pure Anch'io Nonno maullo Ma perché Ma perché questa cosa Ogni tanto ripiglia Già la seconda volta Che la vedo Ok signori E' andata abbastanza bene Andiamo avanti Fino alla prossima partita Facciamo vari allenamenti Buono così Si allenano praticamente tutti E questa cosa E' un'ottima cosa Praticamente Così tutti dovrebbero Tornare piano piano in forma Facciamo altri allenamenti Tecnico tattici L'unico Non l'ho Non ho nessuna potazione Vabbè Ci pigliamo un D E chi se ne frega Praticamente Va bene Così non ha importanza Non ha importanza L'importante è che si allenano Un po' tutti Arriviamo alla prossima partita Di campionato Siamo saliti In nona posizione Buono Con 14 punti Prossima partita Contro lo Swiddon Che è 18esimo Va bene Va bene Vediamo che si può fare Detto questo Signorio di video Vi ringrazio Vi ringrazio per il like Vi ringrazio per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao